Continua il cronoprogramma di lavori pubblici sul territorio comunale di Ischia, si è iniziati come promesso dal canalone via Francesco Buonocore. Assessore Ferrandino, di che cosa si tratta? Si tratta finalmente di una riqualificazione di una zona che è molto centrale, molto frequentata e che al momento non offre il migliore biglietto da visita sia per il luogo che sia per il nostro territorio. Quindi si è incominciato da lì, si sta lavorando al mercato e così si procederà per tutte le zone del territorio per cercare di dare la migliore immagine di questi siti che onestamente sono belli nel loro insieme. Però per quello che sono stati gli allestimenti fino ad oggi, in verità questi stessi sono superati e quindi bisognava intervenire. Noi stiamo intervenendo sperando e pensando di fare le migliori soluzioni possibili per le zone. Tra l'altro c'è il famoso e dannoso problema della pompa, dell'allagamento, quindi anche su quello bisogna tenere di conto nel realizzare quest'opera da quest'altra parte. Principalmente questo è uno degli aspetti che noi stiamo andando a verificare per cercare di capire quanto quell'allestimento in corso interessi anche questa problematica. Noi, indipendentemente da tutto, di sicuro faremo quanto ancora possibile per migliorare. E dunque cattiveria per cattiveria, sappiamo che comunque questi lavori in corso sono invisi a gran parte dei cittadini del posto che si sono addirittura costituiti in un comitato che presto immagino vi farà avere le loro osservazioni. Noi interroghiamo con tutti, però non siamo immobili con quel famoso sindaco che quando tornò un cittadino suo immigrato dopo 30 anni e trovò tutto tale e quale gli chiese ma come è possibile? Ancora lì ci sta quella pietra al centro del paese e non l'avete rimossa? E il sindaco risposta, non mi conviene perché comunque praticamente così va bene e io non ho problemi. Ma andando a rimuovere quella pietra troverò i favorevoli e i contrari. Io non so quale delle due componenti potrebbe averla la meglio. Noi invece siamo un'amministrazione attiva che cerca appunto di vedere, verificare, confrontarsi e cercare di fare le scelte le più opportune. E' chiaro che c'è il 90% di miglioria di contenti e il 10% di scontenti, non credo che le scelte possano andare diversamente da quelle che abbiamo fatto.